Non c'è una finalità nella scienza, ci sono dei risultati da procedure imprevedibili e quindi non abbiamo ancora un'etica che sia all'altezza dell'età della tecnica. Non parliamo poi di quel disastro che è la politica, che non si è ancora reso conto di essere nell'età della tecnica, perché giustamente Platone aveva detto che la politica è la tecnica regia, perché mentre le tecniche sanno come si fanno le cose, la politica decide se e perché si devono fare, per cui aveva definito la politica basiliche-tecne, luogo della decisione, sovranità della decisione, governo delle tecniche, Platone. Oggi la politica è ancora il luogo della decisione? No, non è più il luogo della decisione, perché la politica per decidere riguarda l'economia. Governi tecnici non è stato un episodio, tutti i governi ormai sono tecnici, perché non decidono a partire dal mondo della vita, decidono a partire dall'esigenza del mercato. Tutti i governi sono tecnici. Ma la gente sta male, ci dispiace, se non ci occupassimo del mercato starebbe ancora peggio, quindi la politica non è più il luogo della decisione, perché guarda l'economia, l'economia è diventata il luogo della decisione, ma a sua volta l'economia è l'ultimo luogo di decisione. No, perché l'economia a sua volta decide i suoi investimenti a partire dalle risorse tecnologiche. Quando si dice che noi italiani potremmo competere ancora finché facciamo ricerca, cioè finché scopriremo cose nuove, tecnologicamente nuove, stiamo dicendo che il luogo della decisione ormai è lì. L'economia decide a partire dalla tecnica e la politica decide a partire dall'economia. Il luogo della decisione si è trasferito dalla politica all'economia e dall'economia alla tecnica. Ma la tecnica resta il non guardato, il non capito. E se continui a parlare in termini antropologici, oggi destra e sinistra cosa significano? Sono due raffigurazioni antropologiche, ci sono degli uomini attenti agli altri uomini, ci sono degli uomini superattenti a se stessi, ma niente di più che configurazioni antropologiche, ma non il luogo della decisione. Perché decidere la tecnica, non è anche la Merkel, è il mercato che decide come ti devi muovere politicamente, è lì che si è spostato. E il mercato a sua volta fa i suoi investimenti, là dove ci sono i risultati tecnologici. Quindi la tecnica è diventata il luogo della decisione. Poi la tecnica riduce ormai a zero anche la democrazia. Questo è molto doloroso, però è inutile che ci stiamo a girare intorno. La democrazia è una cosa stupenda, l'ha inventato Platone, però non ci credeva e diceva che era applicabile solo se il popolo fosse stato educato. Aveva già capito tutto. Quindi diceva che nel frattempo facciamo governare gli aristocratici che qualche libro l'hanno letto. Invece qui, però la democrazia l'ha inventata lui, è nata in Grecia insieme alla filosofia, non vi sto dire il nesso perché sennò teniamo mezzanotte. Bene, nell'età della tecnica è possibile ancora la democrazia. Se dobbiamo decidere se fare o no le ricerche nucleari, le centrali nucleari, io per poter decidere dovrei essere un fisico nucleare. Se non sono un fisico nucleare, decido in base a che cosa? In base alla mia appartenenza politica, in base alla mia fede, in base alle convinzioni indotte dal politico che mi piace, in base a configurazioni irrazionali. E' una democrazia che si fonda sulla irrazionalità, non è più una democrazia. Platone diceva che se Atene vuole diventare democratica, è necessario cacciare dalla città rettori, sofisti e preti e poeti. Rettori perché questi incantano con le parole. Sofisti perché ingannano le menti con falsi sillogismi. Preti perché partono dalla pistis, dalla fede e dall'autorità. Una cosa è vera se l'ha detta qualcuno che ha autorità. Poeti perché i poeti mentono troppo. Mentono troppo perché fanno oscillare le parole. Ma qui non vi sto a dire perché, fanno oscillare le parole, ma credeteci che è così. Quando Leopardi dice dimmi che fai tolunico dal punto di vista della logica razionale, è una domanda insignificante. Diventa poetica se la luna non è solo la luna, ma anche qualcos'altro. Quando diventa qualcos'altro siamo fuori dalla logica e incominciamo ad entrare in quel regime stupendo, grandioso, che si chiama follia, intorno a cui non intendo trattenermi stasera perché sono guai. Bene, allora a questo punto la democrazia com'è praticabile? Infatti la democrazia cosa va? Va alla ricerca di leader che possono affascinare. Se è vero che Platone, dei 34 dialoghi che ci ha lasciato, ben 14 sono contro retori e sofisti, aveva capito bene che gli incantatori sono un pericolo enorme per la democrazia. Se no non gli dedicava 14 dialoghi dei 34 che ci ha lasciato. La retorica, che oggi potremmo tradurre tranquillamente in mass media, sono molto più potenti dell'argomentazione. In televisione non si può argomentare, devi dire una frase, un dettato ipnotico, devi colpire, devi sparare, devi fare queste cose. E' un mezzo di diseducazione. Non perché fa vederle donne, niente di male, ma perché ipotizza che è ragionamento a noi. Non si può ragionare in televisione. Però la televisione è sempre accesa per abituare tutti al non ragionamento. Se queste sono le situazioni, la tecnica rende assolutamente inutili gli scioperi. Gli scioperi sono dei luoghi in cui si dà la libertà all'anima, in cui si esprime la propria infelicità e in cui nella solidarietà ci si sente in qualche modo confortati dal fatto di essere tanti, meglio ben accompagnati in questo caso che soli nella disperazione. Ma non risolvono niente, sono pure eventi retorici anche quelli. Perché la tecnica non ha bisogno di scioperi. Perché la tecnica distribuendo competenze fa sì che dieci persone, dieci controllori di volo, possono benissimo interrompere tutta la circolazione aerea. Non è necessario scioperare, basta che si assentino. Gli americani l'hanno capito. Chiamano questo processo no making power, il potere di non fare. Piccoli frammenti. Siccome nella tecnica tutto è connesso, basta un piccolo frammento che non funziona. Si fermò tutto. Concludiamo con una bella frase di Heidegger. Noi a questo punto siamo diventati quello che siamo diventati funzionari di apparati tecnici. Questo lo capiamo bene. Gunther Anders, che è un filosofo che io amo molto, dice che l'età della tecnica non è incominciata con l'industria. Anche prima c'era la tecnica intesa come tecnologia. Ma la qualità della tecnologia, questo nocciolo della suprema razionalità della dimensione tecnologica, dice che il luogo di questa sperimentazione è stato il nazismo. Perché? Perché il nazismo? C'è un bel libro di Adelphi, di Gitta Serena, giornalista, che ha fatto 170 interviste a Franz Stangler, che è un uomo ancora vivo, è vegeto, anche se ha 90 anni ormai, che era il capo del campo di concentramento di Treblinka. E Gitta Serena chiede in queste 170 interviste, non in tutte le 170, ma a ripetizione, perché voleva sentire la risposta, che cosa provavi tu a fare il tuo lavoro? E quello non risponde. Ma non è che non risponde perché vuole evitare la domanda, ma perché proprio non la capisce. Come cosa provavo? Che significato ha quello che io provavo? Alle 11 del mattino arrivava un carico di 3.000 persone che doveva essere soppresso entro le 5, alle 5 arrivava il secondo carico che doveva essere soppresso entro la sera, il metodo l'aveva individuato Wirt e io lo dovevo eseguire, io ero un perfetto funzionario. Cosa c'entra quello che provavo? Gunther Randers, che è un ebreo andato in America, andati i suoi genitori, ha seguito appunto gli ebrei, non è che correvano dei rischi in epoca nazista, quindi non è uno che possa disprezzare l'olocausto, dice che questa mentalità è enormemente più pericolosa di quanto non sia l'olocausto. L'avere introdotto a questa razionalità dove tu sei valutato sulla base dell'efficienza e della produttività. Se sei efficiente, va bene, se non sei efficiente, se non sei produttivo, se non sei funzionale, non va bene l'età della tecnica. E ciascuno di noi, in qualsiasi apparato a noi ci si trovi, noi siamo legittimati alla sola condizione di realizzare gli obiettivi dell'apparato con efficienza e produttività, al punto che anche dal punto di vista psicopatologico è cambiata anche la psicopatologia della depressione, una volta la depressione era organizzata sul senso di colpa, perché vivevamo nella società della disciplina, dove c'erano le regole e le trasgressioni, come entravi in fase di trasgressione avevi il senso di colpa, a partire dal senso di colpa ti nasceva il processo depressivo. Oggi Alain Ehrenberg, un sociologo francese, in un bel libro intitolato La fatica di essere noi stessi, dice che oggi la depressione è organizzata non sul senso di colpa, ma sul senso di insufficienza, non più nello spazio permesso proibito, ma ce la faccio o non ce la faccio? Raggiungo o non raggiungo gli obiettivi, che tra l'altro ogni anno me li alzano, e che produce tutti gli stati depressivi con tutta la sintomatologia ansia, insonnia, non essere mai all'altezza, un'inquietudine costante, quello che si chiama stress, parola magica, che significa premesso per morire presto in un bel attacco cardiaco e non se ne parla più. Questa è la situazione. Heidegger, che di nazismo se ne intendeva perché lo era, aveva capito tutta questa macchina, che il nazismo aveva inaugurato questo tipo di mentalità. Lì Gunther Anders dice che è stato un piccolo teatrino di provincia rispetto all'età della tecnica, questo tipo di mentalità che si è introdotto. E Heidegger conclude dicendo inquietante non è che il mondo si sia tradotto in un unico enorme apparato tecnico-economico. Enormemente più inquietante che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma la terza cosa, ancora più inquietante, è che non abbiamo un pensiero alternativo a un pensiero che sa fare solo di conto. Denken als Rechnen, pensare come calcolare. Ecco, questo è il massimo dell'inquietudine. Chiudo con un esempio che mi è rimasto in mente, una volta sul treno andando a Roma, c'era una ragazza che aveva un'arpa e siccome ingombrava l'arpa e occupava uno spazio, e poi era grosso questo strumento, un signore molto a modo si era incuriosito di questa ragazza e di questo strumento, gli aveva chiesto come si fa a suonare l'arpa e lei gli racconta e lui sembra che partecipi, infatti partecipava emotivamente anche, sì, la loddava, che brava, eccetera, e alla fine conclude, ma e poi dove è il business?